Chiaro che c'è tanta delusione, la contestazione dei tifosi alla fine, un Pescara che dopo il gol del vantaggio si è completamente spento, soprattutto negli ultimi 20 minuti. Sì, è vero. Complessivamente comunque abbiamo creato delle occasioni per fare gol, per vincere la partita. Abbiamo subito questa, penso l'unica occasione loro, negli ultimi 20 minuti siamo troppo abbassati e abbiamo preso gol. Questo purtroppo è un momento che sta accadendo sempre. Una squadra come la nostra, soprattutto in casa, dobbiamo fare qualcosa in più. C'è la sensazione che sta scivolando via l'obiettivo? Sicuramente la distanza è lunga, quindi ora si inizia a fare difficile. Se non ci mettiamo quel qualcosa in più, oggi a tratti si è visto, però in determinate zone del campo bisogna essere più cattivi e più determinati. Perché dopo aver sbloccato la partita, soprattutto nel secondo tempo, avete smesso di giocare con la cattiveria agonistica del primo tempo? Secondo me questo è successo gli ultimi 20 minuti. Forse in questo momento non siamo tanto in fiducia, ci abbassiamo e poi subiamo l'avversario. Ripeto, forse è un momento, io spero che questo momento qui possa cambiare perché se continuiamo così poi è davvero dura. Una delle poche note positive è Galano che sta crescendo sempre di più. Sì, sì, sono contento, anche se ripeto posso fare molto di più, però in base comunque anche alla partita, però sono contento, devo soltanto continuare così e crescere come hai detto tu.